Torna il 19 novembre la giornata dei giovani marchigiani. La città scelta per la seconda edizione dopo il successo dello scorso anno a Fabriano è Camerino, polo universitario di riferimento nel territorio marchigiano ed extra regionale. L'evento, promosso dall'assessorato alle politiche giovanili della regione in collaborazione con Amat e Comune di Camerino, prevede momenti formativi di spettacolo e condivisione di esperienze. Quest'anno siamo in un altro teatro, Teatro Marchetti, ma siamo a Camerino. In questo contesto verrà dato palcoscenico per valorizzare i talenti e i meriti dei nostri ragazzi a 360 gradi. Quindi una giornata riservata ai ragazzi dai 16 ai 35 anni, ma io dico e oltre, chiaramente la giornata è aperta a tutti, è assolutamente gratuita. Camerino città dei giovani, Camerino città universitaria. Eventi come quello che ci stiamo prestando a presentare sono degli eventi che vanno a valorizzare l'intero emispero giovanile. Tanti personaggi noti coinvolti, dal coach Luca Stanchieri che condurrà un workout sulle potenzialità dei giovani, agli ospiti della serata tutta Made in Marche, che vedrà sul palco del Teatro Marchetti l'orchestra Sinfonietta Beniamino Gigli, il comico Giorgio Montanini e la cantatrice e polistrumentista maceratese Beatrice Antolini. Tre protagonisti che sono non solo marchigiani, ma sono già dell'Italia e potenzialmente anche del mondo. Quindi in una giornata che è una grande festa, che è una festa per tutti, mi fa piacere che sia a Camerino perché è una città bella e nobile, piena di giovani, e quindi ci fa piacere di essere vicino alla Regione Marca, all'assessorato alle politiche giovanili anche in questa circostanza.